bravo bravo peso allargati bene sotto no qua devi chiuderla secondo me meglio di qua ormai sei sceso qua e vai a fare di là vai a fare le due cunette e esci dal sassetto in mezzo qua vieni qua e salti fuori giusto vai no di qua chiudi e fai il sassetto saltando fuori il sassetto saltando fuori chiudi, chiudi no, i big chiudono prima bravo 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 su quello in alto bravo bravo va bene peso di lì è giusto allargati e vai a fare il sasso dopo il passaggio brutto è di là no ma è quello il passaggino scemo è quello là che è brutto da fare no